ciao meraviglia e qui ne le bentornati su dual gamers e oggi sono qui con il secondo episodio di horror games qui con me come sempre c'è da penzelo 097 ragazzi adesso giochiamo un gioco che precisamente non so cos'è che si chiama il labirinto del terror ragazzi è già così ecco play non toccare le paredes del labirinto con il cursore spagnolo ah praticamente dobbiamo non dobbiamo non dobbiamo non dobbiamo toccare le pareti del labirinto ok così l'anca non l'anca in molti che ragazzi aiuto 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 ok quanto piano perché che figata per ora c'è ti leggi i movimenti del mouse si prova un po' ansioso non c'è neanche un rumore raga c'ho paura sinceramente fondato solo che cosa no no ok ok sì ma perché dovrebbe far paura sta roba di ragazze sono domando parlo quando facciamo due degli abilità testa e prenderlo spaventare ballo 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 mi chiamo è stertissimo raga che cosa c'ho ansia c'ho ansia no no ti giuro c'ho ansia ah cosa cazzo è dai non è possibile vai marco ma dai play 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 In questo muro non è successo niente Se sbagli parte dall'inizio Cazzo c'è paura in sto gioco? Ragazzi non capisco Ma comunque non l'ho sbagliato Ho fatto così e sei spento Non farmi ridere cazzo cazzo Ok, vai veloce prima che si stoppa Ma perché? Ma fa il culo Marco Non ho fatto niente Ragazzi mi sto incazzando Ma perchè ti fai iniziare? Ma non mi inchiare Ma non ce l'ho cazzo spavento Horror games ragazzi Ragazzi ora mi sto incazzando Cioè si sta rivelando tipo Cat Mario sta roba Ragazzi mi sto incazzando Ok aspettate un attimo Ma faccio il terzo livello prima che Sei deciso a passare il primo Porca di quella Puzzolandia Putrefatta Dove come ha spedito adesso? Aspetta non farmi ridere Non farmi ridere Comunque il 3 è impossibile Aiuto 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 Ok manca l'ultimo corridoino L'ultimo corridoino Ventolere Non farti pendere dal panico Ah Ok Te la testa eh Così a partire Te la testa La cosa bella è che Cioè Parti subito Qui non hai tempo di dare il cambio Capito Si poi come cazzo faccio Oddio Oddio Si ma qua per forza colpici le robe Scusa Ma qua bisogna andare proprio lenti Minchia C'ho un'ansia raga Ma ora bisogna fare qualcosa Porca Cazzo Non fa il culo Non fa il culo Non fa il culo Cazzo Oh no Non fa il culo Oh no Era sta merda Nooo Ahahah Non c'è più Non c'è più C'è più che è il culo Sono bastardissimi Spanelli di merda Porca puttana C'è quel Capitana Ragazzi ma sono morto Ti giuro Ma sei coso che gioco Cosa Aspetta no veramente sto male Oddio che spaventare Ragazzi non ho mai preso uno spavento Così in vita mia Vaffanculo a te l'esorcista Cristoforo Colombo Sbarcatina America Ce l'affanno Non stiamo scherzando 5 minuti di episodio Capito bastardo Non ti ho fatto neanche andare Mi manca l'aria Aspetta v'alzarmi un attimo Mi c'è la testa Marco non sto scherzando Veramente Vaffanculo al video Mi gira la testa Cioè non ti ho fatto neanche andare alla fine Perché tu eri ben concentrato A stare con quel cazzo di cursore Su un babilinto E ti passi con una merda Con una trota Ma perché prima Mi hai spaventato tu Un sacco mi sono spaventato E poi ti ho fatto così E poi ti ho fatto così Perché scusa Il cronascondimento L'ho fatto apposta Da non farti fare quella roba Vabbè metti 5 minuti Ti metti Poi metti un altro gameplay No ma va bene L'episodio ragazzi Ma come fa cosa Stai chiusando ancora Ma ti giù mi sento male Raga Ma fa culo Ma poi si è proprio chiuso il gioco Ma a tempi si è chiuso il gioco E poi non te non rara la puttana Tanti giù mi sto tremando No non ce la faccio Ragazzi ci vediamo al prossimo Scusate per la lunghezza di questo episodio Ma Va bene così raga Ci vediamo al prossimo episodio Non mancate Iscrivetevi e commentate Un bel like Per questo infarto Che ci siamo presi E al prossimo episodio Ciao Ciao meraviglia